e' il titolo ecco qua quando il penneggio o la comodo guarda almeno i civili nello pazzo no no vabbè però è un fantasma mamma lo stava a noi che ciò attraverso l'omini attraverso lo vedi guarda ma non solo il primo vicino all'armario guarda di nuovo io mi dico il dono veramente ma se non registrava lontano ecchi vicino all'armadietto ma non ci sembra una cosa piccola un'entità piccolina ma di scioglie un bambino la guarda la piccola ma da sarana sotto il tigre il quadro nonostante questo quattro non si vede il quadrante grosso quindi deve essere qualcosa nonostante nonostante non atti su fai del volo miglia posto